I lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della copertura tetto e degli stralli della piscina a Bruno Bianchi sono stati completati. Problemi forse progettuali, forse di realizzazione, che ci avevano creato notevoli problematiche nel corso degli anni. Percolamenti, la pioggia pioveva dentro, vento e cose di questo genere. Oggi, durante una conferenza stampa resa particolarmente vivace dall'intervento dell'assessore comunale allo sport Giorgio Rossi, in un clima verrebbe da dire da un'onta e una sponta, l'intervento complessivo è stato illustrato alla stampa anche grazie ad un video realizzato dal comune. Si è partiti da un primo importante passaggio sul tetto, sono stati tolti i controsoffitti e quindi sono state installate nuove grondaie e una nuova soletta per un importo di 980 mila euro. Quindi le verifiche, la ritesatura degli stralli sulla copertura per un costo di 115 mila euro, interventi che sono stati effettuati senza interrompere l'attività della piscina. Un tetto molto complicato, un tetto piano che ci ha dato degli inconvenienti, però tutto è bene quello che finisce bene. Comunque hardware, rifacimento difficoltoso dal punto di vista tecnico, vero tale pietra, estremamente complicato, ci siamo riusciti. Era veramente pericoloso per i ragazzi che erano poi iniziato a nuotare, è stato un intervento che abbiamo deciso di fare dalla notte al giorno successivo e poi ci siamo messi a mano ovviamente alla copertura. Speriamo dopo tanto tempo con questo inverno di riavere di nuovo una piscina che sia completamente isolata, che non ci siano spifferi che non piova dentro, per il decoro da una parte ma anche per la tutela degli utenti, dai bambini, chi fa il nuoto libero eccetera. L'amministrazione comunale è stato ricordato anche dall'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi e da Lorenzo Giorgi, assessore comunale ai servizi generali, ha investito 30 milioni di euro sugli impianti sportivi, dimostrando, è stato sottolineato, grande attenzione in tal senso.